Gli ospedali toscani sono alle prese con l'incremento giornaliero dei ricoveri dei malati di coronavirus e la Regione Toscana sta aumentando i posti letto per arrivare così a 1.500 in più nel più breve tempo possibile. Dopo aver firmato l'ordinanza per allestire all'interno del CREAF a Prato 500 posti, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni insieme all'Assessore Regionale alla Sanità Simone Bezzini ha presentato gli ulteriori 30 posti di cura intermedia allestite nell'ospedale I Fraticini di Firenze. Quotidianamente sto cercando insieme a Simone Bezzini, l'Assessore della Sanità, stiamo facendo un lavoro anche certosino, fisico, di individuazione di spazi e di capacità di trasformarli in luoghi dove il malato Covid possa trovare quella opportunità che in questo momento è l'emergenza maggiore, quello cioè di far fronte al numero crescente di ricoveri. Avere 30 posti ulteriori che serviranno a Careggi, che serviranno agli altri plessi ospedalieri dell'area fiorentina diventa un modo per facilitare le dimissioni dagli ospedali e liberare posti per pazienti che magari hanno bisogno di ricovero. Quindi un altro passo avanti importante nella battaglia contro il coronavirus. Nell'ospedale I Fraticini, gestito dalla Croce Rossa italiana, è già attivo un reparto che conta 30 pazienti Covid e da oggi con ulteriori 30 posti si arriva a 60 totali. Qui vengono curati i pazienti che hanno superato la fase più acuta. Sono più o meno stabilizzati e siamo in grado di gestirli in questa struttura. Naturalmente hanno bisogno di un'elevata assistenza medica, infermeristica, hanno bisogno di ossigeno, hanno bisogno di essere monitorizzati per verificare la costante tenuta della sintomatologia. Però sono pazienti con un'intensità di cura inferiore, sempre positivi sicuramente, e che vanno però verso la stabilizzazione definitiva e la negativizzazione. Nel momento in cui diventano negativi possono essere dimessi. Gianni ha anche annunciato altri 50 posti all'ospedale di Prato, 28 a San Mignato e in previsione altri 120 all'ex ospedale Campo di Marte di Lucca.